E adesso parliamo di lavoro domestico, una realtà diffusa in tutta Italia. In Puglia il 50% dei lavoratori è di nazionalità italiana e quanto emerso dal rapporto 2020 di Domina, l'associazione datoriale e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Ascoltiamo. Aumentano i lavoratori domestici in Italia per la prima volta dal 2012 con una percentuale di crescita che supera il 7%. Secondo i dati IMSS nel 2020 si contano quasi 921.000 lavoratori assunti dalle famiglie italiane. Domina, l'associazione datoriale e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, esamina i motivi della crescita di questi lavoratori nell'anno dell'emergenza sanitaria. Tuttavia la situazione è abbastanza variegata sul territorio nazionale. Il rapporto annuale analizza anche la nazionalità dei lavoratori, evidenziando come solo in tre regioni, tra cui la Puglia, gli italiani superano il 50% dei lavoratori domestici, mentre la stragrande maggioranza sono donne, oltre l'89%, e hanno in media 48 anni di età. A livello provinciale la concentrazione delle colfe e delle badanti è polarizzata nel capoluogo regionale. Secondo l'analisi, la crescita registrata dopo anni di flessione continua è dovuta principalmente a due fattori. In primo luogo il blocco, prima ondata di Covid-19 a marzo-aprile 2020, che ha portato alla necessità di regolarizzare i lavoratori domestici, altrimenti impossibilitati a recarsi al lavoro. Questa situazione ha portato a far aumentare le assunzioni a marzo 2020 e a un saldo positivo nel mese di 20.000 unità. Il secondo fattore riguarda la possibilità di regolarizzare il personale domestico grazie alla norma che ha regolato l'emersione dei rapporti di lavori regolari per far fronte all'emergenza Covid-19 nel settore agricolo e in quello del lavoro domestico. Al termine del periodo valido per la regolarizzazione, le domande presentate sono state oltre 207.000, di cui 177.000 nel settore domestico, circa l'85%. Nel 2050 il numero di badanti è destinato ad aumentare. In Puglia vivranno 224.000 anziani in più, ultraottantenni, a fronte di 137.000 bambini in meno da 0 a 14 anni. Pertanto la componente anziana sarà più numerosa di quella infantile, 14,4% della popolazione contro il 10,9%.